Negli ultimi anni il nostro paese ha dimenticato troppe volte di essere l'Italia. Una grande potenza mondiale, culla del pensiero e della civiltà occidentale. Coraggio Italia. Lavoriamo per costruire un futuro migliore. Siamo una forza politica civica e trasversale con un unico obiettivo. Migliorare la vita dei cittadini. Vogliamo rendere l'Italia un paese migliore, sicuro, ricco di opportunità di crescita per chi si impegna, si forma, lavora e rispetta le regole. Una nazione dove salvaguardia della salute e dell'ambiente possono conciliarsi con la creazione di posti di lavoro e la libertà di impresa. Diventando motore di crescita economica in un'ottica di totale sostenibilità, guardiamo all'interesse delle future generazioni, i bambini che oggi non votano, ma che un giorno ci giudicheranno. E lavoriamo con competenza e concretezza per costruire l'Italia del domani. Coraggio Italia.